Musica 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 Cos'è l'altra speciale? No, perché prima me la leggo io qui qua che questa cosa non va. Cioè, ma tu hai capito perché la sanità è in crisi? Cioè, guarda, ma tanto tanto ragazzo. L'ho scritta io, ma sono andorata. Ecco, le facciamo, facciamo, ma non c'ho perso. Non mi lascio capire. Andiamo, riportiamoci, mettiamo a ragazzo una seconda sciamera. Un applauso al Dino dell'Antoniatia. Guardate, mi avete nominato, è un bravo ragazzo. Cioè, lui parlava proprio, cioè, c'erocina. Ci rivevo l'ultima volta, ma è difficile fare. Non lo so, c'è una cosa, visto che non pregavi. Oh, chiedo la più dove... Allora, una tipo, adesso decidete voi, una tipo... Ma dai, sapete le mie canzone meglio di me, dai. Giorgia! È stata disegnata Giorgia, 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 Giorgia! Allora, visto che non sai vanno, a me lo vanno a prendere, portate. No, ma ti aiuto, dai, dai! Se prego, se ne gira avanti, cioè, non so, non so, non so, non so, non so, non so. La prossima volta non puoi essere mischiata, la rimane dietro. No, ma chi si è, cioè, non sento, però... Però che non viene vicino, però... No, ma c'è, lì non va, il microfono non se la lega avvicinati. Un applauso! Allora! Vediamo in Google. Vediamo in Google. Un applauso! ciao 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 che meraviglia c'è qualunque cosa sempre ma che vino 15 a 50 7 è il pilottissimo di chiedere l'aria comunque abbiamo provato il papo natale e che è anche educato mi ricordiamo un'altra che risponde ciao papo natale io non chiedo tanto una finestra un camperello e nient'altro ma per favore raggiungimi qua ti hanno scambiato l'ossigeno per anni di cartonica e questo è l'ospedale c'è chi scende c'è chi sale ma questo discorso per me non vale perché quando entra in la speranza non si esce non si esce non si esce non si esce mai non si esce che